Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Siccome è stato fatto, oggi tutto il mondo conosce il Vangelo. Quindi Cristo sta spiegando quello che sarebbe accaduto dal momento che Lui andava via fino al suo ritorno. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora cos'è l'abominazione della desolazione? È quando la corruzione raggiungerà i vertici della religione. Infatti parla del luogo santo. Allora quelli che saranno in Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non avvenga né d'inverno né di sabato. Quindi il Signore ci sta dicendo che quando sarà accaduto tutto questo, ed è accaduto perché guerre, terremoti, l'abominazione della desolazione, ci siamo dentro, poi ovviamente c'è tutto un corpus profetico che concorre ad esempio alla profezia di Malachia dell'ultimo Papa, sappiamo che questo è l'ultimo Papa. La profezia di Garabandal della fine dei tempi ci ha detto che Papa Ratzinger è stato il primo Papa della fine dei tempi, il penultimo della serie prima del ritorno di Cristo. Ma se non sappiamo niente di tutte queste cose, come possiamo incrociare i dati? Quindi meditare, dedurre e determinare? Non lo possiamo fare.